Capitolo 26 Ed avvenne che, quando Gesù ebbe finiti tutti questi ragionamenti, disse ai Suoi discepoli, Voi sapete che fra due giorni è la Pasqua, e il figliuol dell'uomo sarà consegnato per essere crocifisso. Allora i capi sacerdoti e gli anziani del popolo si raunarono nella corte del sommo sacerdote detto Cajafa, e deliberarono nel loro consiglio di pigliar Gesù con inganno e di farlo morire. Ma dicevano, non durante la festa, perché non accada tumulto nel popolo. Ora essendo Gesù in Betania in casa di Simone il lebroso, venne a lui una donna che aveva un alabastro d'olio odorifero di gran prezzo, e lo versò sul capo di lui che stava a tavola. Veduto ciò, i discepoli furono indignati e dissero, A che questa perdita? Poiché quest'olio si sarebbe potuto vendere caro, e il denaro darlo ai poveri. Ma Gesù, accortosene, disse loro, Perché data noia a questa donna? Ella ha fatto un'azione buona verso di me, perché i poveri li avete sempre con voi, ma me non mi avete sempre. Poiché Costei, versando quest'olio sul mio corpo, l'ha fatto in vista della mia sepoltura. In verità vi dico, che per tutto il mondo, dovunque sarà predicato questo Evangelo, anche quello che Costei ha fatto, sarà raccontato in memoria di lei. Allora uno dei dodici, detto Giuda Iscariot, andò dai capi sacerdoti e disse loro, Che mi volete dare, e io ve lo consegnerò? Ed essi, gli contarono trenta sicli d'argento, e da quell'ora, cercava il momento opportuno di tradirlo. Or, il primo giorno degli azimi, i discepoli si accostarono a Gesù e gli dissero, dove vuoi che ti prepariamo da mangiare la Pasqua? Ed egli disse, Andate in città dal tale, e ditegli, Il maestro dice, Il mio tempo è vicino, farò la Pasqua da te, con miei discepoli. E i discepoli, fecero come Gesù aveva loro ordinato, e prepararono la Pasqua. E quando fu sera, si mise a tavola co dodici discepoli, e mentre mangiavano, disse, In verità io vi dico, uno di voi mi tradirà. Ed essi, grandemente attristati, cominciarono a dirgli a uno a uno, Sono io quello, Signore? Ma egli rispondendo disse, Colui che ha messo con me la mano nel piatto, quello mi tradirà. Certo, il figliuol dell'uomo se ne va, come è scritto di lui, ma guai a quell'uomo, per cui il figliuol dell'uomo è tradito. Meglio sarebbe per cotest'uomo, se non fosse mai nato. E Giuda, che lo tradiva, prese a dire, Sono io quelli maestro, e Gesù a lui. L'hai detto. Or, mentre mangiavano, Gesù prese del pane, e fatta la benedizione, lo ruppe, e dandolo ai suoi discepoli, disse, Prendete, Mangiate, questo è il mio corpo. Poi preso un calice, e rese grazie, lo diede loro, dicendo, Bevetene tutti, perché questo è il mio sangue, il sangue del patto, il quale sparso per molti, per la remissione dei peccati. Io vi dico che, d'ora in poi, non berrò più di questo frutto della vigna, fino al giorno, che lo berrò nuovo con voi, nel regno del Padre mio. E dopo che ebbero cantato l'inno, uscirono per andare al monte degli Ulivi. Allora Gesù disse loro, Questa notte, voi tutti, avrete in me un'occasione di caduta, perché è scritto, Io percoterò il pastore, e le pecore della greggia saranno disperse, ma dopo che sarò risuscitato, vi precederò in Galilea. Ma Pietro, rispondendo, gli disse, Quando anche tu fosse per tutti, un'occasione di caduta, non lo sarai mai, per me. Gesù gli disse, In verità ti dico, che questa stessa notte, prima che il gallo canti, tu mi rinnegherai tre volte. E Pietro a lui, Quando anche mi convenisse morir teco, non però ti rinnegherò. E lo stesso, dissero pure tutti i discepoli. Allora Gesù venne con loro in un podere detto Gezzemani, e disse ai discepoli, Sedete qui, finché io sia andato là, ed abbia orato. E presi secco Pietro, e i due figliuoli di Zebedeo, cominciò ad essere contristato, ed angosciato. Allora disse loro, L'anima mia, è oppressa da tristezza mortale, rimanete qui, e vegliate meco. E andato un poco innanzi, si gettò con la faccia a terra, pregando e dicendo, Padre mio, se è possibile, passi oltre da me questo calice, ma pure, non come voglio io, ma come tu vuoi. Poi venne a discepoli, e li trovò che dormivano, e disse a Pietro, Così, non siete stati capaci di vegliar meco un'ora sola? Vegliate, ed orate, affinché non cadiate in tentazione. Bene è lo spirito pronto, ma la carne è debole. Di nuovo, per la seconda volta, andò, e pregò dicendo, Padre mio, se non è possibile, che questo calice passi oltre da me, senza chi lo beva, sia fatta la tua volontà. E tornato, li trovò che dormivano, perché gli occhi loro, erano aggravati. E lasciateli, andò di nuovo, e pregò per la terza volta, ripetendo le medesime parole. Poi venne ai discepoli, e disse loro, Dormite pure oramai, e riposatevi. Ecco, l'ora è giunta, e il figliuol dell'uomo, è dato nelle mani dei peccatori. Levatevi, andiamo, ecco, colui che mi tradisce, è vicino. E mentre parlava ancora, ecco arrivar giù da uno dei dodici, e colui una gran turba, con spade e bastoni, da parte dei capi sacerdoti, e degli anziani del popolo. Or colui che lo tradiva, avea dato loro un segnale, dicendo, quello che bacerò è lui, pigliatelo. E in quell'istante, accostatosi a Gesù, gli disse, Ti saluto, maestro. E gli dette un lungo bacio. Ma Gesù gli disse, Amico, affarchè sei tu qui? Allora, accostatisi, gli misero le mani addosso, e lo presero. Ed ecco un di loro, che erano con lui, stesa la mano sulla spada, la sfoderò, e percosso il servitore del sommo sacerdote, gli spiccò l'orecchio. Allora Gesù gli disse, Riponi la tua spada al suo posto, perché tutti quelli che prendono la spada, periscono per la spada. Credi tu forse, che io non potrei pregare il Padre mio, che mi manderebbe in quest'istante più di dodici legioni d'angeli? Come dunque si adempirebbero le scritture, secondo le quali bisogna che così avvenga? In quel punto Gesù disse alle turbe, Voi siete usciti con spade e bastoni come contro ad un ladrone per pigliarmi. Ogni giorno sedevo nel tempio ad insegnare, e voi non m'avete preso. Ma tutto questo è avvenuto, affinché si adempissero le scritture dei profeti. Allora, tutti i discepoli, lasciatolo, se ne fuggirono. Or quelli che avevano preso Gesù lo menarono a Caiafa, sommo sacerdote, presso il quale erano raunati gli scribi e gli anziani, e Pietro lo seguiva da lontano, finché giunsero alla corte del sommo sacerdote, ed entrato dentro, si pose a sedere con le guardie per veder la fine. Or i capi sacerdoti e tutto il sinedrio cercavano qualche falsa testimonianza contro Gesù per farlo morire, e non ne trovavano alcuna, benché si fossero fatti avanti molti falsi testimoni. Finalmente, se ne fecero avanti due che dissero, costui ha detto, io posso disfare il tempio di Dio e riedificarlo in tre giorni. E il sommo sacerdote, levatosi in piedi, gli disse, non rispondi tu nulla? Che testimoniano costoro contro a te? Ma Gesù taceva. E il sommo sacerdote gli disse, ti scongiuro per lì Dio vivente, a dirci, se tu sei il Cristo, il figliuol di Dio? Gesù gli rispose, tu l'hai detto. Anzi, vi dico che d'ora innanzi vedrete il figliuol dell'uomo sedere alla destra della potenza, e venire sulle nuvole del cielo. Allora, il sommo sacerdote, si stracciò le vesti dicendo, egli è abbestemmiato, che bisogna abbiamo più di testimoni? Ecco, ora avete udito la sua abbestemmia. Che ve ne pare? Ed essi rispondendo dissero, è reo di morte. Allora, gli sputarono in viso, e gli diedero dei pugni, e altri lo schiaffeggiarono, dicendo, oh Cristo profeta, indovinaci, chi t'ha percosso? Pietro intanto, stava seduto fuori nella corte, e una serva gli si accostò dicendo, anche tu, eri con Gesù il Galileo. Ma egli lo negò davanti a tutti, dicendo, non so quel che tu dica. E come fu uscito fuori nell'antiporto, un'altra lo vide, e disse a coloro che eran quivi, anche costui, era con Gesù Nazareno. Ed egli da capo lo negò, giurando, non conosco quell'uomo. Di lì a poco, gli astanti, accortisi, dissero a Pietro, per certo, tu pure sei di quelli, perché anche la tua parlata, ti dà a conoscere. Allora, egli cominciò ad imprecare, ed a giurare, non conosco quell'uomo. Ed in quell'istante, il gallo cantò. E Pietro, si ricordò della parola di Gesù, che gli aveva detto, prima che il gallo canti, tu, mi rinnegherai tre volte. E uscito fuori, pianse amaramente.